La prima seduta dell'undicesima legislatura del Consiglio regionale della Toscana dopo l'elezione di Eugenio Gianni a Presidente della Regione ha visto la partecipazione mista in presenza nell'aula del Palazzo del Pegaso a Firenze e da remoto in modalità telematica dei nuovi consiglieri eletti nell'Assemblea Toscana, come previsto dalle norme anti-Covid contenute nell'ultimo decreto del Governo per arginare il contagio da Covid-19. Subito dopo l'apertura dei lavori, alla terza votazione, è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo del Partito Democratico, consigliere regionale nella precedente legislatura con 36 voti a favore su 41. Tra i primi atti annunciati da Mazzeo, la ricognizione delle spese di bilancio per aiutare le categorie economiche e le realtà più in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Un senso di responsabilità enorme è aver avuto anche le forze di opposizione, anche quelle più critiche verso il Partito Democratico, votarmi in terza seduta e io mi impegnerò per dare le risposte che servono ai cittadini della Toscana con un impegno, quello di lavorare insieme a tutte le forze di opposizione, cercare di evitare nell'ufficio di Presidenza voti a maggioranza, lavorare da subito, ho chiesto agli uffici, di fare una ricognizione per vedere tutte le risorse libere che ci sono a bilancio per metterle a disposizione delle categorie economiche, dei lavoratori, di tutti coloro stanno vivendo difficoltà e sofferenze. Sarà un lavoro importante, un lavoro che dovrà metterci al lavoro subito perché di queste risorse i cittadini della Toscana hanno bisogno. La seduta è proseguita poi con l'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli di Italia Viva che ha ottenuto 24 voti e Marco Casucci, Lega, eletto con 14 voti, entrambi sono al secondo mandato. Tutti e due si sono detti pronti ad affrontare un mandato che, almeno nell'immediato, ha come principali sfide la pandemia, l'occupazione e la ripresa economica. Questo è il primo grande segnale che abbiamo voluto dare ai toscani, c'è una coalizione forte in grado di esprimere i ruoli istituzionali più importanti del Consiglio in maniera unitaria e credo che questo sia un segnale importante per una maggioranza, per un sostegno a Eugenio Gianni che nelle prossime settimane sarà chiamato a affrontare sfide di governo importanti rispetto all'emergenza Covid, rispetto alle situazioni economiche non semplici, rispetto a un tema importante quello di attrarre su questa regione il massimo delle risorse per continuare a sostenere l'economia e cittadini toscani, quindi questo è un segnale di forza politica di una maggioranza che ritrova questa compattezza e che credo sarà in grado di esprimere il massimo del proprio sostegno alla figura di Eugenio Gianni che in queste ore andrà definendo anche il governo della giunta regionale che ci troverà sicuramente a disposizione per darle una mano per essere autorevolmente dalla parte del governo di questa regione. I consiglieri in aula e quelli collegati da remoto si sono poi espressi sugli altri componenti dell'ufficio di presidenza, organo strategico per la gestione delle attività istituzionali del Consiglio regionale. Sono stati eletti in veste di segretari Federica Fratoni del Partito Democratico, ex assessore regionale all'ambiente nella precedente legislatura della Toscana e Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, sindaco di Abitone Cutigliano ed eletto nella circoscrizione di Pisa. È una nuova legislatura che parte anche con un rapporto diverso, maggioranza posizione nei numeri, una coalizione, quindi sicuramente il lavoro del Consiglio soprattutto in questa particolare fase di emergenza è un ruolo centrale che ha bisogno di un governo solido e anche molto partecipato. Queste sono state anche le parole del nuovo eletto Presidente Mazzeo, l'ha ribadito il Presidente Gianni. Sicuramente abbiamo bisogno di un lavoro molto collaborativo e molto assiduo fra Giunta e Consiglio in questa fase in particolare e vorrò spendermi assolutamente per questo. Un bel segnale rispetto soprattutto al rispetto per l'istituzione perché poi quando uno va a presentare un'istituzione deve avere anche la forza e il coraggio di togliersi la casacca della propria squadra, lo dico avendo fatto per quasi quattro anni il sindaco essendo tuttora in carica, ma soprattutto dà anche un segnale a chi ci guarda da fuori perché certe scaramucce, certe divisioni interne istituzioni penso che non sarebbero comprese da chi sta soffrendo o per motivi sanitari o per motivi socio-economici come purtroppo in questo momento ci sono centinaia se non migliaia di persone anche in Toscana che soffrono questo momento tremendo. In chiusura della prima seduta del nuovo Consiglio regionale è intervenuto in aula il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni che ha illustrato le 149 pagine e i 21 titoli che racchiudono il programma di governo per la legislatura che si è appena aperta. In primo piano sanità e lavoro. Da un lato, ha detto il Presidente, l'emergenza Covid e la necessità di investire ancora di più nel sistema sanitario pubblico e universale per mettere gli ospedali e il personale sanitario in condizione di fronteggiare mesi che si prospettano molto difficili per la gestione di ricoveri e tamponi. Dall'altro il lavoro perché se noi pensiamo alle situazioni di emergenza e magari di contenimento della pandemia poi il riflesso è immediato sull'economia e quindi ecco tutti gli interventi su cui dobbiamo giocare molto in rapporto con l'Europa per ottenere quegli investimenti che possano dare respiro alla nostra economia e accanto a questo l'attenzione verso tutte quelle che sono le linee di intervento ambientale, la pianificazione territoriale, le infrastrutture, il rapporto fortissimo che dobbiamo vivere con il mondo dell'associazionismo e delle identità culturali della nostra Toscana, la scuola dove abbiamo intenzione di garantire a un reddito medio-basso sotto i 40.000 euro l'asile unido gratis da 0 a 3 anni, la possibilità insomma di vedere in tutta una serie di interventi il superamento delle diseguaglianze, il superamento delle discriminazioni. Una Toscana più unita, più coesa, in grado anche di interrompere quel clima per cui si denunciava una sorta di crescita a due velocità tra la costa e il centro, la direttrice che collegandosi sui collegamenti nord-sud ne ottiene in chiaro beneficio. Sotto questo aspetto grande attenzione ai problemi della costa e grande attenzione alla possibilità di essere come regione un'istituzione molto presente e sentita dai cittadini vicina come sentono i comuni, ovvero come le entità territoriali. Il presidente Eugenio Gianni ha poi reso noti i nomi degli assessori che lo affiancheranno nella nuova giunta regionale, composta da quattro uomini e quattro donne. Si tratta di Stefania Saccardi di Italia Viva, ex assessore regionale alla sanità in veste di vicepresidente degli esponenti del Partito Democratico Alessandra Nardini, Stefano Cioffo, Simone Bezzini, Stefano Baccelli, Monia Monni, Leonardo Marras e di sinistra civica ecologista Serena Spinelli. Gianni ha anche indicato tre consiglieri delegati che parteciperanno ai lavori della giunta regionale, Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Jacopo Melio. Il nuovo presidente ha anche detto di voler completare il quadro introducendo la figura del sottosegretario alla presidenza, come in Emilia Romagna. Al prossimo episodio Grazie.